Un intero programma di eventi dedicati alla celebrazione del centenario della nascita del grande filosofo avellinese Aldo Masullo, nato nel 1923 ad Avellino, avrebbe compiuto quest'anno cento anni. Molto solido il suo legame con le città di Nola e Napoli, città che ha amato profondamente. L'Università Federico II inoltre a Napoli fu prima da studente e poi da professore grande trampolino di lancio per i futuri successi nel campo filosofico moderno. Masullo ci ha lasciato nel pieno della pandemia e non è stato possibile fino in fondo salutarlo come avrebbe meritato. In una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sono state presentate le iniziative di un comitato guidato da Nino Daniele, già sindaco di Ercolano, istituito ad hoc per centrare l'operazione di mantenere vivo l'immenso lascito intellettuale e morale di Masullo. Ecco le parole di Daniele. Il suo insegnamento cosa ci dice? Che ciascuno di noi deve attraverso la cultura, la conoscenza acquisire sempre più consapevolezza della propria dignità come persona. Masullo è nato ad Avellino e anche con la città di Avellino siamo in coordinamento per tutta una serie di attività ed iniziative. L'obiettivo è favorire la divulgazione tra i cittadini e soprattutto tra i giovani i testi scritti da Aldo Masullo, ricercando anche l'impegno serio di alcune case editrici che dovranno ristampare diversi volumi, attualmente difficili da reperire. Tra le iniziative c'è inoltre l'intesa tra le amministrazioni comunali di Avellino e naturalmente di Napoli per la strutturazione mirata di un evento congiunto in ricordo di Masullo. Sentiamo ai nostri microfoni il sindaco Gaetano Manfredi e Matteo Lorito, rettore dell'Università Federico II di Napoli. Lui amava stare tra i giovani, stare nelle scuole, parlare ai cittadini e noi lo ricordiamo in questo modo con delle iniziative diffuse che coinvolgono la maggior parte delle persone, soprattutto i giovani. Aldo Masullo è uno dei grandi figli della Federico II, la storia di quest'ateneo si basa non sulle strutture, non sulle aule, ma sulle grandi figure, i grandi pensatori che hanno percorso le sue aule in 800 anni di storia.